Tutto pronto per la 74esima edizione della Fiera dell'Epifania che ogni anno all'Aquila il 5 gennaio anima le vie del centro portando circa 30.000 persone in città. I lavori in piazza Duomo quest'anno hanno imposto un taglio, circa 40 banchi in meno per motivi di sicurezza. A gestire l'evento con il comune c'è la FIVA Confcommercio, 240 banchi in totale con la maggior parte degli ambulanti che arriveranno da ogni parte d'Italia. Si tratta di uno degli eventi più attesi dagli Aquilani non solo una vera e propria tradizione che solo il sisma e la pandemia hanno fermato. Il percorso tranne la piazza sarà più o meno lo stesso imponenti le misure di sicurezza. C'è un piano di sicurezza concordato con prefettura e questura. Siamo con numeri ridotti ma solo i temporaneamenti per quest'anno. Speriamo che stattando possiamo ritornare ai numeri di 300 posti come era nell'anno passato e via. Ci abbiamo un po' da tutta Italia, gli operatori, le vie, via Le Gran Sasso, via Tagliacozzo, via Malta, via Zara, via Signorini Corsi, San Bernardino, Corso Vittorio Emanuele, il primo tratto partendo dalla villa. Ci manca la piazza ma come tutti ben sanno per i lavori che stanno finendo e prossimamente riutilizzeremo anche la piazza, anche possibilmente anche per un piccolo mercatino nel futuro. C'è un piano di sicurezza ovviamente molto importante. Quante persone attendete? Allora noi attendiamo almeno 20.000-25.000 persone come di solito alla Fiera dell'Aquila perché è la 74esima edizione, è conosciuta in tutta Italia anche nel territorio locale ma anche fuori regione come dicevo poc'anzi. Il piano di sicurezza è stato visto insieme alla prefettura, insieme alla questura, i vigili del fuoco ci hanno dato molte indicazioni che noi abbiamo approntato con 40 steward che verificano che tutto vada come deve andare. Ci abbiamo sei ambulanze, mezzi e b, insomma stiamo in piena sicurezza. Ci ho invito a venire perché la città è solamente sicura, è una bella città con una bellissima fiera e speriamo la giornata che sia piena di sole.